Clubhouse è una comunità terapeutica attiva dal 2001 in provincia di Puneo. La pettura per me è una necessità prima di tutto. Questi artisti hanno portato una ventata di freschezza e colore vero e proprio a questo posto. Sono molto grato perché mi ha insegnato anche molto e mi sono stati vicini, comprensivi e è stato un buon lavoro. Questa esperienza mi ha lasciato tante belle cose, mi ha dato in primis la possibilità di esprimermi, di dare una mano e ovviamente di conoscere persone nuove al di fuori dalla comunità. Per me Clubhouse è una seconda possibilità. Spero di rinascere. Grazie. 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 Grazie a tutti. Per me lavorare con i ragazzi di Clubhouse è stato principalmente stata una collaborazione, eravamo tutti alla pari in questo muro. L'arte contribuisce nel benessere delle persone, anche solo nell'azione, quindi è un momento che prendi per te, ma anche di condivisione. Dire che l'arte è un processo di cura ci fa un pochino forse dimenticare quanto l'arte sia proprio quello strumento, quella scintilla che porta fuori dal conforme, quindi anche da una certa idea di rientrare da un malanno o da una malattia, ritrovare uno stato conforme della propria buona costituzione. Credo che l'arte sia la malattia e il tempo stesso la cura. Grazie a tutti. Grazie a tutti.